buona buona buonasera a tutti dal feto mammo carino dal primo che passa no dal primo che che passa capito allora vi sto facendo un video dove vi consiglio quando non sapete che fa non sapete che suonare oddio so fa un miardo di cose e mi viene in mente niente voto io una dritta mettete la loop fate una base vostra come vi viene e poi suonare sopra vi faccio un esempio allora io qui c'ho una loop c'è no 3d loop però questa è quella più praticamente io peggio qui e faccio un giro d'accordi va bene faccio un giro d'accordi il primo che me la strada mento dio questo carino no ah non è stato a guardare un giro d'accordi un giro d'accordi e me e e e e adesso lo andiamo a risentire sentite quello che ho fatto adesso adesso ci metto un suono sopra sentite che cos'è questa guitarra bassa e bassa bassa non mi vado e sta suonate ore era un consiglio che vi volevo dare questo era un esempio poi faccio altri giri adesso c'è la distorsione ho tantissimi giri vediamo un po' di ego bassa e bassa bassa e bassa bassa e bassa e bassa bassa e bassa e bassa non fa che non ti scrivi, no? lo sai che ti succede se non ti scrivi? che stasera quando mangi ti fa tutto schifo a tavola ma che mi ha cucinato? mamma mia questo se non ti iscrivi ve lo dico subito vi conviene iscrivervi stasera mangiare una favola me conviene Alfredo Mamucati iscriviti e campanella su youtube ciao lo so che vi è piaciuto il video vi è piaciuto vi è piaciuto il video lo so per cui lasciatemi dei commenti va bene sotto ne lasciate dei commenti che non vi costa niente fa due click va bene un bacione a tutti un abbraccio da Alfredo Mamucati